Benvenuti in Kiwi Bella a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti e bentornati! Oggi mi vedete in una postazione un po' diversa, mi vedete camminare E questo perché? Perché stiamo andando in un posto particolare Stiamo andando indietro nel tempo Cioè andiamo a vedere i dinosauri Sì ragazzi, i dinosauri Ma prima di iniziare ragazzi vi voglio ricordare di iscrivervi al canale Attivare la campagna, mettere like, fare tutto lo che dovete fare sempre Insomma, lo sapete già Quindi iniziamo a vedere, sperando di non perdermi, di non essere investito dalle macchine Andiamo a vedere, andiamo alla ricerca dei dinosauri Perché sono arrivati i dinosauri a Roma Perché per caso mi trovavo qui al centro commerciale Parco da Vinci E quindi dicono che stanno i dinosauri Speriamo che non me magnano Se no, se no sto video non lo state vedendo Se lo state vedendo sono salvo E quindi andiamo a vedere Dicono che stanno i dinosauri Vediamo se ci riusciamo ad andare E quindi ragazzi siamo arrivati ai dinosauri E ragazzi questo uomo mi sta per mangiare a destra Mi sta per mangiare E quindi stiamo qui a Parco da Vinci Che ci stanno tutti Ci stanno tutti i dinosauri Ci stanno Tipo questo Sto coso che non so come si chiama Sto peccone lungo diciamo Ci stanno pure gli altri dinosauri Ci stanno Che ci stanno Questo è l'anchilosauro Questo è l'anchilosauro Ah ma questo si muove Questo si è l'ermicone lungo si muove Tiè Tiè va che non pare che Se si mangia Miè Andiamo a vedere gli altri dinosauri Che ci stanno Che stanno qua pieno Pieno dei dinosauri posati Allora un po' Non fanno un po' Perché si muove Ragazzi sono fatti pure bene Sono fatti pure bene Qua ci sta un altro Che sta Tirannosauro Che sta Che sta pure il tirannosauro Tiè Passi con la testa Tirano C'hai fame? Sì Sì C'ha fame Sta a pagare Sta a fa Non mi metta la mano No Non mi metta la mano Non mi metta la mano Ragazzi Se venite qua A Parco da Vinci Scrivetelo qua sotto Nei commenti Poi ci sta pure Il cucciolo di tirannosauro Che sta Che carino Che carino Questo invece È il Che cos'è questo Questo Non vedo Ma che figo Va a vedere Che va come se Questo se ci mette la mano Ci rimane dentro La mano Ci rimane dentro La mano Ci sta pure L'altro L'altro dinosauro Che è il Brachiosauro Ci sta Ma che collo lungo L'altro che ha giraffa Z Che è Saluta Saluta ragazzi Saluta Saluta i amici Saluta Ambedi Il Brachiosauro Poi vediamo Chi altri dinosauri Ci stanno Sì Fammi vedere Qua Il Parasolo Parasololo Come si chiama Parasaurolofo Parasaurolofo Non so di Sì Guarda che Ambedi Chi è Guarda come se muove Ambedi Com'è Com'è Ah ecco capito Avete capito ragazzi Iscrivetevi al canale Vi dovete iscrivere qua sotto Al canale Zì qua sotto Vi dovete iscrivere Ho stati pure Il Parasololofo Ve l'ho stati Il Parasololofo E poi qualche altro C'è sta cosa Mi pare Questo Mi pare Tipo un Pokémon Mi pare Un Plesiosauro Mi pareva un Pokémon Mi pareva Perché sta nell'acqua Sta fuori E sta tutto agitato Perché deve stare nell'acqua E sta fuori Quindi sta tutto agitato Ve Mi pareva un Pokémon Mi pareva Raga Però ci assomiglia al Pokémon Sì Ti è Ma no Io pure E sto Alcarezzano Questo Mi magna Ma non mi magna Raga Ma invece Stanno Pure Il Dinosauro Dentro l'uovo Ci sta Ve che si sta Peschiude Si sta Il Dinosauro Peschiude Si scappolato Guarda che bello Ma che carino Il Dinosauro Che si sta Peschiude Questi che Dinosauri Sono Non mi vede Il Tyrannosaur Questo è Il Cucceli Il Cuccelo Del Tyrannosaur Ve come se Movesi Non è che il terzo è questa Come se Ma lo Gli denti Già ce li ha Belli pronti C'è là Ve C'è già I denti pronti Questo Mi pare Il terzo Mi pare Raga Questo è Il Il protocerato Poteva Buonanotte Si Come se Più carino Se sta Chiude Si è vergognato Vabbè Si è vergognato L'avete fatto Vergognare L'avete fatto Si è rimesso Nell'uovo Si è rimesso Oh Esci dal luogo Si Esci dal luogo Ah Ecco Vedi Vi saluta pure E lui Vi saluta Vabbè Non vedo E qui Ma sono tutti Bene Fatti Raga Belli Proprio E questo Invece Vabbè Vedi Questo è Il triceratum Raga Che va Che va Ha Gornuto Ha Gornuto Dove Questo c'ha Se metti Dove Guarda come si muove gli occhi Pure Pure gli occhi si muovono Si Anvedio Vedi Fate poco bene Guardate che bestione Ragazzi Se venite qui a Pacco da Vinci Potete vedere pure voi Che è I bestioni Andiamo a vedere un altro Un altro bestione Che questo è proprio gigantesco Anvedio Hai capito Posta di pure lui Posta di pure Tiè qua che corna che c'ha Sì Questo invece raga è il tricerato Con lo grosso diciamo Il tricerato con il gigante Tiè Ma che Ti è esagerato Ma che bello Il triceratum Ha ragione Ha ragione Ha ragione Mi dovete iscrivi al canale Mi dovete costati pure lui Posta di C'era un po' Un gigante Posta di Ma c'è sta pure Il tirannosauro Quello Sta bello un cazzato Il tirannosauro Sta dietro Sto mo Sto mo Vei sei mani A tutti quanti Vei sei mani Ragazzi Un video Tiè E quindi raga qua A Parco da Vinci Ci stanno pure I dinosauri Ci stanno Famo un po' Famo un po' A vedere un po' Di dinosauri Così Tiè Questo fa po' Vedi come si chiama Questo si chiama Il parco No raga Lo dovete Lo dovete Dì pure voi Come si chiama Sto tipo Er Er Pa Non so capire Parasaurolopo Parasaurolopo Alla fine Mi imparerò A dire come si chiama Sto tizio Questo Bello Pure questo è bello Questo è bello Venuto Ambedio Questo invece Il dinosaurio Il veloci Raptor Questo qua Questo è quello che Nervi Di Jurassic Park Se mangiava a tutti Se mangiava Sto tizio qua Se mangiava a tutti Se mangiava Invece qua Sta buono buono È stato addomesticato È stato Che nuve Se mangia Nuve Se mangia Accarezziamo Così Accarezziamo Qui Qui Fida Perché Se non Mi si mangia Ah ma Non mi si mangia Ragazzi Qui invece qua Veniamo Al 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 Giraffa No No Il Brachiosauro Ragazzi Il Brachiosauro Questo C'ha un collo Esagerato C'ha un collo Di tumetri C'ha Questo C'ha un collo Esagerato Ragazzi Se stà mangiando Se stà mangiando A foglia Se stà mangiando Se stà mangiando A foglia Da qua Vè Ambedio Questo è proprio Un bestione Esagerato Ragazzi Poi siamo tornati Qua dall'anchilosauro E questo 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 è Erbivoro Questo è Erbivoro Però c'ha un C'ha un codone Che Se te dà una mazzata Te te sdrenate Erbivoro Ambedio Saluta 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 Gli amici Diglielo tu Iscriviti al canale Si Ambedio Conoscete voi Ragazzi Sto Sto tizio Conoscete Ragazzi Questo Vede Una mazzata Che la testona Guarda Che bo Che boccia Che c'ha Questo Vede Una mazzata Che La coda Gigante Che c'ha Per tutti C'ha una coda La gigante Guarda Quanto è grande La coda Ragazzi Questo C'ha Una coda La fine Tiè E quindi raga Qua abbiamo Siamo arrivati Proprio pure In diretta Che ci stanno Qualche testa Di cactus Diciamo Che hanno già Fatto i primi danni Hanno fatto Maledetta Loro E niente Ragazzi Vi dovete imparare Se gente decente Perché già Ti ha fatto i primi danni A rompere La zappa A sto povero Sto povero Tirex Che manco va mangiato Ragazzi Manco va mangiato Già Vestate A fare Cosa Lui Un po' 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 Stegosauro Questo si chiama Stegosauro Ragazzi Stegosauro Si chiama Tiè Questo è il più piccino Però se si incazza Con quei spuntoni Che c'ha qua O che Gli spuntoni Che c'ha qua Vede Si sta ammazzate Non fate incazzare Se mangia solo Le foglie Se mangia Ragazzi Questa è lui Questa di Non mi fate incazzare E datemi Le foglie Da mangiare Vostate pure Lui Vostate Ove Questo è bello Bello ignorante Però è questo Vedi La coda Chi spuntoni Sua coda E quindi Qua ci stiamo Pure O spinosauro Ci stiamo Vedi Mostrati pure lui Commentate qua sotto Se siete venuti qui A vedere i dinosauri Perché non è che ci stanno Per sempre Poi Ritorneranno Nella loro epoca Tipo a 5 milioni Di anni Infatti o meno Sono venuti giusto Per ora A darci A farse vedere Diciamo così E quindi ragazzi Ve lascio così Con spinosauro Che c'è guarda Mi raccomando ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Mi raccomando Mettete like Commentate E va a tutto il cosco Di fare sempre Ci vediamo dopo Ciao cari